Tre giorni sotto il segno del mondo vegetale, una mostra a mercato con oltre 200 espositori, ma ancora incontri culturali e concorsi. Sono stati il presidente dell'Opera delle Mura, Alessandro Biancalana, e l'assessore regionale all'agricoltura, Gianni Salvadori, a tagliare il nastro della quattordicesima edizione di Muraviglia. Fino a domenica il baluardo San Regolo, il baluardo La Libertà, la sortita Cairoli e l'orto botanico di Lucca vestono ai panni di una grande serra a cielo aperto, con migliaia di fiori e piante provenienti da tutto il mondo. Gli espositori presenti quest'anno arrivano da Italia, Francia, Germania, Inghilterra, Slovenia e Brasile. Il tema di fondo, prendendo spunto dall'Expo 2015, è piante, cibo del mondo. Nel corso della cerimonia di inaugurazione, l'assessore regionale Salvadori ha consegnato il Pegaso, come premio della regione toscana per la biodiversità, ai due bivaisti gallesi di fama internazionale, Bledin e Sue Wynne Jones.